E' stato denunciato in stato di libertà dalla polizia un pluripregiudicato nisseno ritenuto responsabile del furto con destrezza di due borse a danno di due donne che stavano facendo la spesa all'interno di un affollato supermercato cittadino in due distinti episodi, rispettivamente il 15 e il 18 aprile scorsi. La quarta sezione, reati contro il patrimonio e delitti contro la pubblica amministrazione della squadra mobile nissena, ha fatto luce su questi due furti dalle caratteristiche seriali. Un uomo di 46 anni avvalendosi della confusione e di qualche attimo di distrazione delle vittime ha consumato all'interno dello stesso supermercato. In particolare le due donne di cui un'ottantenne al momento di pagare il conto alle casse si rendevano conto di essere state derubate della loro borsa che avevano poggiato sul carrello della spesa. Immediatamente sono state acquisite le registrazioni del sistema di videosorveglianza dalla cui analisi si è rilevata. La presenza dello stesso uomo, che commossa a fulminia per ben due volte, rubava le borse e dopo averle nascoste all'interno del giubbotto si avviava velocemente verso l'uscita. All'interno delle borse, oltre al denaro contante ed effetti personali, documenti e chiavi erano contenute pure carte di credito che il ladro tentava di utilizzare in alcuni bancomat cittadini ma con esito vano, poiché le stesse venivano immediatamente bloccate. Messo dinanzi l'evidenza dei fatti, l'uomo non ha potuto far altro che confermare di riconoscersi in quei filmati dicendo di aver reagito per soddisfare il proprio bisogno di consumare sostanze stupefacenti.